Di recente la struttura complessa di urologia Asugi a Cattinara è intervenuta su un caso estremo di infertilità di coppia attraverso una procedura particolare. In questi casi quando l'infertilità è dovuta a una ostruzione della via seminale, cioè i canali che si chiamano deferenti che portano gli spermatozoi dal testicolo al pene sono ostruiti, solo in questi casi che peraltro non sono tantissimi ma circa il 5% rispetto alle coppie infertili, in questi casi è possibile andare a ricanalizzare la via seminale e questo si può fare utilizzando la microchirurgia. Quindi questo è un intervento peraltro che necessita di un coinvolgimento di più equip operatorie infatti lo abbiamo fatto insieme all'equip del professor Ramella che è il direttore della struttura di microchirurgia che afferisce alla chirurgia plastica sempre dell'azienda sanitaria triestina di Asugi e anche dell'Università di Trieste. La scelta della procedura è di Trieste è avvenuta sulla base di ulteriori considerazioni. In questo paziente c'era un desiderio di riuscire ad avere una gravidanza a letto per via naturale e quindi anche perché la moglie per qualche motivo aveva delle controindicazioni a eseguire dei trattamenti di procreazione medicalmente assistita che comunque necessitano di stimolazione ormonale e cose del genere. Quindi questo paziente, che tra l'altro veniva da fuori regione, è venuto proprio con questa richiesta ed era stato già valutato altrove, è stato indirizzato da noi per questo tipo di procedura. Grazie.